Sempre più vecina la Forena Doa che da d'alba ruirà su un col dei rossi. A Pontin, in Stadilla, Trentino Sviluppo e la SIC, a firmano accordanza per la costituzione del Doleda Impianti Funiviari Spa, una società pubblica privata che farà sul nef impianto Portamont. L'incogliamento della valuta tra l'area Ciampacca Bufaure e il Belvedere sulla Ronda. Una Forena Doa allonga 2 km per un deslivello di 880 metri e una portata di 1120 persone all'ora, un impianto che vennerà a costare 17 milioni di euro. In Danna, il capitale sociale della Doleda Spa è di 860 mila euro per il 51% di Manala SIC. Col tempo e il capitale vennerà a smaurà e sin ai dodi a smiglioni di euro, con le medeme percentuali. In cogliamento è il centro e l'autofassa che daranno il metto di valorizzare l'economia dell'area Bufaure e Ciampacca, che adesso è piuttosto piccola e fuori a demand rispetto a Belvedere, Corrodella e Sella Ronda. E' naturalmente la qualità dell'offerta che qui si va a migliorare, in questo una qualità che va ad ampliare quella che è l'area adibita naturalmente allo sci, ma quello che dicevo, in modo particolare che riguarda la riduzione dell'inquinamento ambientale, minor presenza di traffico, ma soprattutto anche, credo, una completa valorizzazione col centrofassa e questo credo che è un'iniziativa che porterà in futuro ad altre scelte. A firmare per la Doleda Spa, Diego Olanar, della Trentino Sviluppo, e Paolo Fosco, Presidente della SIC. Del CDA, a Pedia Fosco, Carmelo Zini e Daniele De Zuliani. Sedut va a qualche carenea, l'urriere per la Forena 2 è che inizia a scominciare l'essuta dell'Ancheven, per se struttare su a Dezember del 2000-Chines, giusta giusta per la stagione d'inverno. Adesso abbiamo la fase di approvazione del PRG Comunale, abbiamo qualche parere da acquisire dai servizi della provincia, dopo conosceremo a fare i vari progetti esecutivi e do l'affidamento dell'urriere. Noi speriamo di poter scominciare l'Ancheven e completare l'Otel 2000-Chines. La neva Forena 2 sarà una funevo di fune, che è un portavescovo per centenari, da cento persone, e ci metterà cinque minuti a fare un viaggio. L'impianto di nuova generazione, con una migliore stabilità al vento e un basso impatto ambientale. E' perché? Perché questa sorta di Forena 2 non è di bisogno di dare il bosco sotto la linea per l'evacuazione di visitatori. Vantaggi anche per la viabilità, già che le stime dicono che d'inverno gli passano 1500 ghi che punta via da Dalba e Penia per si racciapare gli impianti portamonti a Cianacei e Cianpedelle, con passano 300 auti a imbocciare le strade. Una buona parte di questo traffico, il Cognezza Veniera smenderà dalla Forena 2, con l'azzezza dretto alle piste da schi.